L'obiettivo è chiedere al Governo la modifica della legge di bilancio nella parte in cui è possibile incrementare il fondo di solidarietà che consenta ai comuni di assumere a tempo indeterminato figure professionali nel complesso settore dei servizi sociali. Ieri mattina si è tenuta la conferenza dei sindaci nell'ambito territoriale sociale del distretto di Corigliano Rossano a cui ha preso parte la deputazione parlamentare del posto affinché si faccia interprete della problematica mediante la presentazione di un emendamento. Noi faremo la nostra parte, poi chiederemo anche ai colleghi di maggioranza di sostenere questi emendamenti e di lavorare in maniera trasversale. Però sicuramente noi ci faremo sentire e speriamo che poi il Governo ascolterà le nostre ragioni. Si tratta di un contributo che viene assegnato per ogni singola assunzione in relazione al rapporto tra ambito territoriale e sociale e dato demografico. Che avere un organico per come la norma prevede di assistenti sociali significa poter rispondere in maniera efficace ai bisogni sempre crescenti dei territori. Stamattina parte un impulso dal basso, quindi molto positivo secondo me, che attraverso la delegazione parlamentare poi ci auguriamo che arrivi nel più breve tempo possibile al vaglio del Governo. Sono intervenuti l'assessore regionale al welfare Gianluca Gallo in modalità telematica da Catanzaro ed il sindaco di Trebisaccio Franco Mundo in qualità di presidente della consulta regionale delle autonomie locali. La conferenza dei sindaci ha poi proceduto alla firma della Convenzione per esercizio associato di funzioni dopo l'avvenuta fusione degli ex comuni di Corriano Rossano.